Un'operazione condotta dagli uomini della Mobile di Roma nel pomeriggio del 7 novembre ha portato all'arresto di due cittadini albanesi di 50 e 36 anni, sorpresi nell'atto di spostare una partita di cocaina di 32 chili nascosta all'interno di un box auto nella zona di Ponte di Nona. Gli agenti della sezione criminalità straniera stavano monitorando da tempo il garage utilizzato dai due come deposito e avevano notato uno strano e inusuale andirivieni di macchine e persone nei pressi del semi interrato del complesso condominiale. All'insaputa dei due trafficanti che pensavano di poter agire indisturbati, gli operatori appostati nelle vicinanze hanno monitorato l'incontro fino a quando non è scattato il blitz. I malviventi che nel frattempo erano intenti a spostare i panetti di cocaina dal garage ad una delle loro autovetture non hanno avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di cosa stesse succedendo quando si sono ritrovati di fronte gli agenti che li hanno immediatamente bloccati prima che potessero tentare un qualsiasi tipo di reazione o darsi alla fuga. All'interno del box sono stati rinvenuti ben 27 panni di cocaina per un peso complessivo di 32 kg, tutti sigillati con il celofan per garantirne l'impermeabilità. Gli agenti hanno poi perquisito le macchine utilizzate dagli arrestati parcheggiate di fronte al box e pronte per essere caricate di droga da spostare in un luogo ritenuto più sicuro. Proprio dentro una di queste vetture hanno scovato un vano occulto ricavato all'interno del cruscotto ed apribile solo attraverso un meccanismo appositamente costruito. All'interno del vano erano nascosti circa 20.000 euro in contanti divisi in mazzette. Dopo aver controllato tutto il garage e le altre autovetture utilizzate dai due, tutte di grossa cilindrata, i poliziotti hanno perquisito le loro abitazioni dove hanno rinvenuto e sequestrato altro denaro, circa 40.000 euro in contanti. Nonché una pistola di piccolo calibro, carica e perfettamente funzionante, risultata rubata a Roma due anni fa. Terminate le perquisizioni, i due sono stati portati in questura e successivamente associati presso la casa circondariale di Regina Celi a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'ingente quantitativo sequestrato avrebbe fruttato diversi milioni di euro una volta rivenduto sul mercato locale. Si tratta infatti di uno dei più importanti sequestri di cocaina eseguiti a Roma negli ultimi tempi. Sequestro che lascia intendere il coinvolgimento di un'organizzazione criminale più ampia sulla quale sono in corso approfondimenti investigativi.